Queste offerte le puoi trovare nello spazio Conad a Bologna, Ferrara e Modena a partire dal 4 dicembre. Ecco, sono a mio parere molto interessanti e mi riferisco ovviamente al no food. Ci sono ad esempio tutte queste padelle che onestamente sono a prezzi piuttosto interessanti. Un wok a 27,90 invece che 35 euro e una bistecchiera rotonda a 16,90 invece che 21,90. Poi un multi piastra, sono molto interessanti perché hanno un buon antiaderente. Poi c'è lo stampo americano, c'è la pentola a pressione toniana a 35,90, 36 euro invece che 45 euro. Quindi un risparmio di 9 euro. Ecco, l'unico difetto per cui non la comprerò è da 7 litri, quindi un'ottima pentola grande. Veramente ci può cucinare bene e che non ha le maniglie isolate. A me piacciono le pentole a pressione con le maniglie isolate. Se no l'avrei comprata perché toniana è anche un'ottima marca, non c'è che dire. Poi c'è la moca in alluminio a 10,50 euro, quindi uno sconto del 30%. Il microonde, certo non di marca, ha 60 euro ma un microonde spiazioso, 20 litri di capacità e con un grill da 800 watt. Ma la cosa più interessante è qui. Un televisore di marca Samsung, quindi un'ottima marca da 43 pollici, ha 289 euro invece che 349 euro. Beh, è un televisore anche di quelli, come posso dire, moderni, che non dovrai cambiare col cambio degli antenni. E quindi, secondo me, questo è molto interessante. Meno di 300 euro, 43 pollici, che ricordiamo ogni pollice sono due centimetri e mezzo, quindi la diagonale supera il metro praticamente. E sì, supera il metro. Quindi è veramente tanta, tanta, tanta roba. Poi abbiamo una lavatrice con carica frontale con fi a 189 euro invece che 229 euro. E' una lavatrice normale da 6 kg, questo magari non mi piace tanto, e 1000 giri al massimo e classe energetica D. Però onestamente costa molto poco. La cosa più interessante, però, secondo me, è l'asciugatrice marca San Giorgio, che qui c'è addirittura uno stemma italiano, non so, mi sembra strano che le facciano ancora in Italia, però se è così, tanto meglio. Ha uno sconto di 40 euro, quindi più del 10%, ma la cosa interessante è che ha la tecnologia a pompa di calore, con un gas con impatto ambientale zero, ed è classe energetica A++. Considera che io non la comprerò per un semplice motivo. Io ho l'asciugatrice classe energetica B, però la porto fino alla sua fine. Però A++, siccome le asciugatrici consumano tanto, è bene comprarle il più possibile efficienti dal punto di vista energetico. Così sentirai, come dire, meno dolore in bolletta. Poi ci sono tanti giocattoli per i bambini, e ancora vediamo alcuni accessori per animali piuttosto interessanti, ad esempio 80 centesimi, la Monatur si fa veramente fatica a trovarla, e, a mio parere, è un'ottima marca. Insomma, il cane la mangia volentieri, ecco. Poi abbiamo, ad esempio, anche questo set marcato Conod per la pulizia del pavimento, con il fiocco, il secchio strizzatore e anche il manico componibile, a 9,90 euro. Sono quei secchi piuttosto grandi, con sezione ovale, che, devo dire, funzionano molto bene. E poi le varie offerte che puoi vedere, che ci sono, a dire, la verità in molti supermercati, però, ad esempio, l'asciugatrice, l'asse A++ a quel prezzo, oppure il televisore da 43 volti, secondo me sono molto, molto convenienti. Qui puoi vedere le altre offerte, ecco, il misuratore di pressione Omron ha 64 euro invece che 80 euro. Anche questo è un buon prezzo, anche perché è un misuratore di pressione digitale, uno sfigma nanometro digitale, questo è il nome corretto, molto facile da usare e di marca Omron. Io consiglio, però, di utilizzarle, perché questi strumenti, sono strumenti salvavita, parliamoci chiaro, andrebbero ritarati ogni anno di utilizzo. E qui, che dire, andrebbero ritarati, andrebbe controllata taratura. Forse conviene comprarli una volta all'anno, per essere sicuri, oppure prendere un sfigma nanometro di quelli meccanici, ad esempio da neroidi, che durano un po' di più. se ne trovi uno anche usato di quelli a mercurio, ecco, quelli invece sono veramente eterni. Te li consiglio tantissimi. Le offerte sul cibo sono quelle che possiamo vedere in tutti i supermercati, però anche qui alcune cose sono veramente interessanti. ripeto, questo è il volantino dal 4 dicembre. ecco, iniziano le cose natalizie. le piante, ecco, le piante hanno, se consideri l'abettino già decorato, 16,90, soprattutto se, come dire, hai poca voglia di fare, o la guzmania, 10,90, sono prezzi che vanno senz'altro bene. La stella di Natale, Princezia, gioiello, 6,90, sicuramente è un buon prezzo, come l'Anturium 5,90, ecco, l'Anturium 5,90, onestamente, non la vedo da tanto, tanto tempo. Così, la rosellina a 2,48 euro è un prezzo veramente basso. e questa, senz'altro, se riesco a passare dallo spazio conat, io lo comprerò, come comprerò l'Anturium, l'Anturium e la rosa, perché onestamente sono a prezzi più bassi rispetto a quelli degli altri supermercati o ipermercati. Queste sono, a mio modestissimo parere, miei sono veramente consigli d'amico, le offerte più interessanti, certo anche le cialde Borbone, Borbone è un'ottima marca, da 80 pezzi, 9,49 euro, è un ottimo prezzo, perché 12 centesimi l'una, qui sì che risparmi rispetto al caffè del bar e a mio parere la marca Borbone è un'ottima marca. Secondo il mio gusto, forse le sue cialde sono le migliori, però questo è un gusto personale, ci mancherebbe altro, non voglio fare pubblicità alla Borbone.